Grazie, ho già detto tutto ma lo ribadisco, grazie al pubblico che ci dimostra un affetto incredibile da più di 30 anni e senza di loro noi non saremmo qua, ma soprattutto se non fosse per Marco Fistoni! Come Marco Fistoni! Come Marco Fistoni! Fa chi cazzo è Marco Fistoni? Questo premio non l'avremmo vinto, grazie Massimo.